Il video da me pubblicato ieri dal titolo Grazie Generale Vannacci è stato particolarmente apprezzato dai miei ascoltatori, insomma da tutti voi, non avevo dubbi, e naturalmente ciò mi fa anche un enorme piacere. Desideravamo un po' tutti che ci fosse una persona che a scapito della propria carriera e anche di tutte le innumerevoli onorificenze meritate, insomma avesse il coraggio di sfidare il mainstream, esprimendo semplicemente delle considerazioni e dei giudizi di assoluto buonsenso. Certo, lo dicevo già nel video di ieri, esprimere opinioni di assoluto buonsenso, in un mondo che va al contrario, è diventato quasi un atto eroico. Se ne deve dedurre quindi che non solo questo mondo gira al contrario, ma gira anche vorticosamente. Ebbene, è anche vero però che noi tutti diciamo da anni le cose che il Generale Vannacci ha scritto nel suo libro, quindi siamo eroici anche noi? No, nessun eroismo naturalmente, né da parte nostra né da parte del Generale Vannacci, il quale però, anni fa, ha compiuto un atto che in pochi conoscono, un atto che non so se definire eroico, comunque insomma senza dubbio ha dimostrato un coraggio assolutamente non comune. Allora, il Generale Vannacci infatti è stato protagonista di un evento che naturalmente poi i media nazionali hanno un po' oscurato, ma si tratta comunque di uno dei fatti più scandalosi e riguarda le nostre forze armate. Se volete sapere tutto, e allora acquistate un libro, già dal titolo inquietante, Bagdad, ribellione di un generale, e dal sottotitolo ancora più angosciante, non abbandono i miei uomini esposti all'uranio impoverito. Un libro scritto da Fabio Filomeni, un ufficiale addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro durante la missione in Iraq. Egli racconta quanto è realmente accaduto e di quanto il racconto della realtà sia diverso invece da quanto appunto raccontato dai vertici della difesa, raccontato durante la commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Uranio, a presidenza Scanu. Ecco quanto riportato a proposito del libro. Cosa può aver spinto un giovane generale dalla brillante e promettente carriera a mettersi contro i suoi vertici militari? Per quale ragione il comandante del contingente italiano in Iraq e numero due dell'intera coalizione internazionale anti-ISIS, al rientro dalla missione si è recato in procura della Repubblica per presentare un esposto contro il suo comando? Un fatto eclatante quello avvenuto nel 2018, rimasto lontano dai riflettori dei media e anche per questo dai contorni decisamente sfumati che l'autore cercherà di chiarire grazie ad una prospettiva privilegiata, quella di essere stato presente. Sullo sfondo la triste vicenda dell'esposizione all'uranio impoverito dei nostri militari, che ad oggi conta 382 vittime e oltre 7.000 gravemente ammalati. L'autore, che si trovava al fianco del generale Roberto Vannacci con l'incarico di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi, ha deciso di rendere pubblica l'avversione dei fatti. Quindi, insomma, se volete saperne di più, acquistate anche questo libro. Questo fatto è comunque emblematico e non lascia alcun dubbio sulla moralità dell'uomo Vannacci, prima ancora che del militare, che in un caso così eclatante non ha la minima esitazione e fra i suoi uomini, i suoi soldati ed i suoi vertici, i suoi comandanti, ebbene si schiera dalla parte dei suoi uomini, dei suoi soldati, semplicemente per un senso di giustizia. Insomma, tutti noi potevamo scrivere un libro come Il mondo al contrario, ma non avrebbe avuto una tale reazione mediatica. Era necessario che l'autore avesse una grande autorevolezza. E il generale Vannacci ha non solo tre lauree, poi parla un numero spropositato di lingue, ha anche avuto una carriera professionale straordinaria, insomma. Ma tutto questo, se possibile, passa addirittura in secondo piano perché ciò che lo rende una persona così autorevole è senza dubbio il rigore morale che ha dimostrato. Cosa infatti fa immediatamente al ritorno dalla missione anti-ISIS? Si reca in procura per presentare un esposto contro il comando perché lui, i suoi soldati, non li dimentica. Ed ora liquido in fretta coloro che immancabilmente sanno tutto e parlano di gatekeeper e sciocchezze simili. Allora, sono chiare naturalmente e spero a tutti siano chiare le mie posizioni riguardo alla Nato. Tuttavia la questione è questa. Le posizioni che rivendica e sostiene il generale Vannacci nel suo libro sono posizioni di buon senso. La risposta è sì. Basta. Punto. Non serve aggiungere altro. Non mi interessa sapere altro. E ora arrivo al titolo del video odierno. Capirete perché sto già sorridendo. Ebbene, noi tutti dovremmo essere doppiamente grati al generale Vannacci. Certamente per aver scritto un libro come Il mondo al contrario e questo lo abbiamo ringraziato nel video di ieri per questo motivo. oggi però dobbiamo ringraziarlo un'altra volta perché vedendo il video della reazione di Scanzi effettivamente lasciatemi passare il termine, è un po' volgare, non è mio costume però insomma lo devo dire vedere il video di Scanzi è stata una goduria vedere quel travaso di Bile arrivare persino a trasfigurargli il volto ebbene, insomma, penso che per tutti noi sia stato un vero e proprio godimento quindi insomma, generale Vannacci, grazie anche per questo.